Un ferragosto da tutto esaurito con il ritorno sotto l'ombrellone dei turisti. Un vero e proprio boom quest'anno come sottolinea in una ricerca la CNA. Nove giorni da record dal 13 al 21 agosto con spiagge prese d'assalto e gli imprenditori del settore mare che sorridono visto che si supereranno anche i brillanti risultati già ottenuti nel 2015. Gli stabilimenti balneari registrano il pienone. Si va dal 98% dei posti prenotati in Liguria e Sardegna al 95% di Basilicate, Emilia Romagna, Friuli, Puglia, Sicilia e Toscana ma anche il 90% della Campania e Veneto e l'85% di Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Molise. A guidare la classifica degli incrementi rispetto al 2015 il Friuli Venezia Giulia e il Veneto più 15%. Per coloro che ancora non hanno prenotato per la prossima settimana la possibilità di trovare posto è davvero limitata ma sottolinea la CNA Balneatori c'è ancora uno spazio di manovra in Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Molise. Una vera e propria polarizzazione delle vacanze sempre più concentrate in un'unica settimana quella di Ferragosto. La Confederazione degli Artigiani ha poi fatto qualche conto in tasca ad una famiglia di quattro persone. Nei nove giorni di agosto che registrano il picco di prenotazioni la spesa per servizi, cibo e bevande va da un minimo di 360 ad un massimo di 495 euro con una media di 444 euro. In forte ascesa poi le prenotazioni online soprattutto dall'estero e si scopre che quattro vacanzieri su cinque che hanno prenotato attraverso la rete internet in Molise provengono dall'estero e tre su quattro sono gli stranieri che lo hanno fatto nel Lazio e in Sardegna. Grazie a tutti.